Altri tre giovani stranieri dediti allo spaccio di Hashish ai minori sono stati fermati nei giorni scorsi dalla polizia di stato a Trieste. Si tratta di due cittadini pakistani, Bilal Hazrat e Fayaz Ali, entrambi del 1989. Gli arresti effettuati nell'ambito dell'operazione Donota hanno consentito nel corso di queste ultime settimane di effettuare un'incisiva azione deterrente e repressiva ai fini di poter arginare il fenomeno e contrastare l'attività criminale legata al mondo delle sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini la squadra mobile alcuni giorni fa aveva arrestato anche il cittadino straniero Ibrahim Afridi, nato anche lui in Pakistan nel 1998, in quanto trovato in possesso di 500 grammi di Hashish confizionato in cinque panetti occultati nello zainetto. Lo stupefacente era stato acquistato da Afridi in un'altra città del nord Italia e poi portato a Trieste per fornire gli spacciatori attivi sul mercato triestino. L'operazione Donota fa seguito a quelle denominate Mola Udace e Via Geppa che, come si ricorderà, avevano consentito l'arresto rispettivamente di 11 e 6 cittadini afghani, tutti richiedenti protezione internazionale, con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Anche in questo caso, come nelle precedenti operazioni, i tre arrestati erano diventati un punto di riferimento per i consumatori locali, soprattutto giovanissimi. Durante le indagini sono state accertate numerosissime cessioni di droga anche a danno di minorenni nelle zone centrali di Trieste e nei parchi aree gioco di bambini di San Giusto, Montuzze e Via Donota, dove gli spacciatori, abbandonati i precedenti luoghi di smercio, si erano spostati. L'operazione, oltre all'arresto dei tre pakistani, ha portato al sequestro di numerosissime dosi di droga già confezionate e pronte per la vendita. L'attività di indagine in merito alla commissione di questo tipo di reati da parte della squadra mobile, coordinata dalla locale autorità giudiziaria, continua al fine di individuare nuovi luoghi di smercio.